Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial su FIFA 23 questa volta visto che ho letto un commento di un utente che diceva che aveva un problema con l'avvio protetto che sarebbe il security boot, questo security boot l'avvio protetto è diciamo un errore non è proprio un errore ma una cosa che bisogna attivarlo su BIOS della vostra scheda madre mi è già successo su Valorant e una volta che l'ho abilitato Valorant è andato quindi faremo la stessa cosa anche su FIFA 23 quindi in questo breve tutorial per risolvere questo errore irreversibile questo qui, certe volte quando andate ad avviare FIFA vi capita questo errore oppure altri errori quindi quello che faremo oggi è un attimo che spengo il PC, lo riavvio e poi passo da telefono e vi riprendo quello che dobbiamo fare, dobbiamo attivare il security boot ok ragazzi siamo nel BIOS, allora che dovete fare, che dovete fare? riavviate il PC e premete quando esce la vostra scheda madre qui sotto c'è scritto F12 o Kanji del BIOS, voi sulla tassiera aprimete io DEL, scusate troppo sporca questa tastiera, piena di polvere F12 oppure Kanji, premete tutte e due e entrerete così nel BIOS, se non sapete come fare cercate come entrare nel BIOS quindi che fare, io vado un attimo su ricerca, scrivo questa mia scheda madre, quindi security boot, eccolo qua visto che a me è abilitato faccio su custom, ok, faccio una disabilita e abilito, ok poi ragazzi, una volta abilitata questa protezione, questo bioprotetto, dobbiamo fare anche un'altra cosa se non si abilita proprio, quindi se supportate questa modalità di nome UF questa qui, a voi ci sarà BIOS CSM pure modalità UF a me c'era CSM, come potete vedere c'era CSM e sono andato a vedere il mio bioprotetto era disabilitato anche se avevo abilitato quel security boot, quindi ho messo su UF ho salvato premendo per UF10, un attimo che ritorno sul security boot fate così abilitato e poi security boot la modalità standard e premete poi il tasto F10 e fate un riacquio ora per vedere se abbiamo abilitato questa modalità andiamo su dove è system information come potete vedere dove sta stato avvio protetto a me è attivato come ho detto prima, questi errori hanno causato anche problemi su Valorant e niente perché su Valorant mi diceva di avviare questa protezione e quindi funziona Valorant, vabbè funziona Valorant e funziona anche FIFA 23 quindi abbiamo abilitato il security boot anche perché Valorant è solo un esempio quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao